Bene, buonasera, vedremo ora due sistemi per fare dei libri dentro Edmondo ci sono fondamentalmente due sistemi, uno è quello di usare, come vedete, un media o una prim in pratica, se il libro che avete è già pubblicato su internet per esempio questo qui è fatto con un sistema particolare che permette di accedere direttamente con un link sul web e in questo modo è sufficiente ad esempio simulare esattamente quello che fareste sul web quindi possiamo scorrere il nostro libro e vedere, insomma, fare tutte le cose che faremmo anche a livello di interazione quindi se questo libro prevede anche dei giochini, delle cose che si possono fare tipo sul web vengono fatte equivalentemente anche qua questo è un sistema molto efficiente ma che richiede di usare un viewer abilitato sul cosiddetto media o una prim io sto usando Firestorm, in realtà ho usato Firestorm perché ha la versione italiana ma anche Singularity ha la stessa gestione e quindi consente di fare questo mestiere invece un'altra alternativa è quella di avere dei libri più semplici tipo questi in cui bisogna scaricare tutte le immagini, tutte le pagine dentro il mondo virtuale lei si mette dentro il contenuto di un prim che si costruisce e poi praticamente è possibile cliccare e quindi sfogliare dentro le pagine corrispondenti questo sistema ha il vantaggio ad esempio che funziona senza necessitare di usare Firestorm o Singularity quindi anche con Inprudence ma ovviamente è molto più faticoso perché bisogna prendere il vostro libro stampare ogni pagina un'immagine per volta scaricare tutte le immagini dentro il mondo o OpenSIM quello che è e a quel punto quindi in pratica si ha un oggetto il cui contenuto saranno tutte le pagine e in cui metterete uno script specifico che permetterà di navigare in mezzo alle pagine qui in particolare la prima pagina che metterete sarà il frontespizio quindi se io clicco qua vedete che questo qui è il retro in realtà il frontespizio è visto dall'altra parte e l'ultima pagina sarà il nostro oggettino ok